www.marizopoli.it, indagine Ania Ipsos sui nuovi bisogni di protezione degli italiani. Questa ricerca, che vi porto il link, dice che 9 italiani su 10 sono vulnerabili, si sentono vulnerabili ai rischi. Salute, famiglia, pensione, reddito, queste sono le aree che destano maggior preoccupazione. Il 66% è preoccupato per la non autosufficienza e le cure, il 50% per la famiglia barra figli, lavoro e il 36,3% per la pensione. Ma, dice che nonostante queste sensazioni, il 70% del campione, per quanto riguarda la perdita della non autosufficienza, dichiari che come rischio particolarmente percepito il 93% si sente esposto, dichiara di non aver adottato nessuna strategia di tutela assicurativa. Anche per mantenere in tempo il livello di vita, il 92% degli indivistati dichiara di non avere accesso a nessuna polizza integrativa. Ecco, quindi, se percepiamo il rischio ma non facciamo niente, quindi il rischio rimane. Noi siamo a disposizione per proteggere, per valutare con voi la protezione del vostro presente, del durante voi, per quanto riguarda la vostra persona, la vostra famiglia. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un contatto, anche video, anche telefonico, 349 571 4319. Agire, agire per proteggersi, direi proprio così. Alla prossima!